Un ragazzino per terra che tenta di difendersi, altri tre che lo prendono a calci ripetutamente con rabbia. Pestaggio tra giovani a Udine sabato pomeriggio in pieno centro e in pieno giorno nell'area delle giostre di piazza Primo Maggio. Un altro ragazzo di 20 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato aggredito da un coetano nella notte tra sabato e domenica in centro a Trieste. Fatture emesse da società rumene inattive e cessate dopo pochi mesi per prestazioni di trasporto mai eseguite. Per questo, per i rati di emissione e utilizzo di fatture false, i finanziari di Trieste hanno eseguito un sequestro preventivo di 2 milioni di euro immesso dalla procura con la confisca delle imposte evase da 7 società. Semplicemente abbiamo sbagliato. Ora imparate dei nostri errori per fare un'Italia migliore per i vostri figli. A parlare Carlo Bonomi, presidente della Confindustria Nazionale, rivolgendosi ai giovani studenti ospiti dell'Assemblea Generale della Confindustria Alto Adriatico. Presente anche il ministro Giorgetti, che si è letto favorevole al sistema delle detrazioni sul superbonus. A Udine, invece, la collega Calderone rilancia la programmazione per i flussi di emigranti. In pochi, turni massacranti, stipendi bassi, gli autisti di arriva Udine in sciopero. Per il sindacato l'adesione ha sferato l'85% dei lavoratori. Le nostre richieste sono inascoltate dall'azienda. Per il gestore la percentuale all'assenza del lavoro è del 75%. Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di TV12. In primo piano avete sentito dei titoli, la cronaca, con una serie di episodi che legano Udine a Trieste e il mondo dei giovani soprattutto. delle aggressioni, delle risse che si sono verificate in due delle principali piazze della regione con protagonisti minori e con una polemica che riesplosa soprattutto online, dove sono stati diffusi alcuni video. Per fare il punto della situazione, per capire quello che è successo e anche le conseguenze, siamo in collegamento con Piazza Primo Maggio, con Monica Nardini che ha seguito la vicenda e è pronta a raccontarci dunque le ultime novità. Buonasera Monica, Telalinea. Buonasera, sì, da Piazza Primo Maggio alle mie spalle, Luna Park, dove sabato scorso, nel corso del pomeriggio, si è verificato questo brutto episodio tra ragazzi. Un ragazzo è stato buttato a terra, poi preso a calci da alcuni coetani. Nelle scorse ore appunto è circolato un filmato online di pochi secondi, di sette secondi circa, in cui si vede proprio questo ragazzo che cerca di difendersi dai calci, numerosi calci impartiti da alcuni ragazzi, ma soprattutto quello che sorprende, oltre alla violenza di questa situazione, è anche il fatto che, almeno nel momento della ripresa, nessuno dei presenti, altri coetani, altri passanti, nessuno è intervenuto per fermare gli aggressioni e mettere quindi al riparo il malcapitato a terra. Vediamo adesso proprio un servizio che ripiroga gli elementi finora immersi sul fatto. Indignazione e molte riflessioni ha suscitato un breve video diffuso online e dalla stampa locale che documenta un pestaggio a Udine ai danni di un giovane preso a calci da alcuni coetani, tra l'indifferenza, almeno in quei frangenti, di altri ragazzi e passanti. Il fatto è avvenuto sabato pomeriggio, in piazza Primo Maggio, poco distante da un'attrazione del Luna Park di primavera. Il malcapitato è steso a terra e cerca di proteggersi il volto e il busto dai forti e ripetuti colpi degli aggressori con quello che pare uno zaino, mentre altri coetani stanno a guardare o attraversano la strada apparentemente indifferenti. Una chiamata è arrivata in quelle ore al comando provinciale dei carabinieri di Udine. Una persona ha segnalato lo scontro tra i ragazzi, ma una volta raggiunta la piazza i militari dell'arma non hanno trovato traccia del pestaggio né della persona offesa. La situazione è apparsa regolare. Nessuno sul posto ha segnalato o condiviso informazioni in merito. Almeno fino a questo tardo pomeriggio non sono state presentate alle forze dell'ordine denunce o querelle in merito a quanto è successo. La questura di Udine ha esaminato il video ed è impegnata a identificare i ragazzi per poterli sentire e cercare di capire cosa è successo. Si sono moltiplicati dunque nelle scorse ore i messaggi di condanna e di anche indignazione su quanto è avvenuto. Ha colpito molto, come detto, questa indifferenza dei presenti. I commenti si moltiplicano. Lo sta di fatto che comunque in quei frangenti, durante quei momenti almeno ripresi, nessuno è intervenuto. C'è chi invece ha filmato il fatto. Anche questo motivo di riflessione, abbiamo chiesto un commento in merito anche su questo aspetto. Si sofferma proprio il presidente dell'ordine degli psicologi del Friuli Venezia, Giulia. Allora sentiamo le sue parole poi di nuovo lì allo studio. Colpisce il fatto che di fronte a un atto di violenza, che comunque è inaccettabile, deprecabile, ci sia l'indifferenza della gente. Io credo che sta venendo sempre più a mancare una sorta di senso civico, di senso di protezione che le istituzioni anche ultimamente non aiutano a fare, nella scuola, nella famiglia, il poter considerarci essere umani e non essere animali, se posso dire. Io credo che sia assolutamente doveroso intervenire come un senso di protezione. È chiaro che questo rappresenta un freno per molti, per paura, ma alle volte purtroppo anche per un senso di assistere, di mettere in evidenza. Alle volte vediamo che le persone riprendono con i telefonini anziché intervenire. Questo è inaccettabile. Io credo che assolutamente la società dovrebbe intervenire, i ragazzi, gli adulti, e gli adulti dovrebbero essere di esempio ai ragazzi nell'intervenire, ad impedire, a frenare o a prevenire la violenza. Quanta tensione riscontrate in questo periodo a livello sociale, tra i più giovani, ma non solo? Beh, questo periodo è un periodo ancora molto difficile, sia per gli esiti della pandemia, ma sia per il grado di estrema sofferenza che i giovani stanno dimostrando. Ovviamente non possiamo ricondurre la violenza solo alla sofferenza interna, perché l'atto di violenza è assolutamente inaccettabile da qualunque parte venga. Grazie dunque alla nostra Monica Nardini e dicevamo non solo Udine interessato da questo fenomeno, ma anche a Trieste, dove nella notte tra sabato e domenica c'è stato un violento alterco tra due ragazzi sfociato appunto in un'aggressione con un ragazzo di 20 anni che è versa in gravi condizioni ed è stato ricoverato in ospedale. Nicolo Geraldi. La questura di Trieste parla di un'aggressione scoppiata con ogni provvedita per futili motivi, ma a chiarire la dinamica del grave fatto avvenuto in Piazza Unita d'Italia nella notte tra il 25 e il 26 marzo, ci penseranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Un ragazzo di nazionalità italiana nato nel 2003 è stato trasportato all'ospedale di Catinara dopo essere rimasto vittima di un grave pestaggio. Il giovane si trovava nei pressi della fontana dei Quattro Continenti quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è stato aggredito da un coetaneo sul posto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e la squadra volante. Il personale sanitario ha immediatamente prestato le prime cure al malcapitato che nella violenta aggressione ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma cranico da dove è scaturita anche un'emorragia cerebrale. L'ennesimo fatto violento è avvenuto nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia durante il fine settimana e il ragazzo non è in pericolo di vita e sul fatto, indaga la Polizia di Stato. E sempre a Trieste, nella nottata di domenica, i sanitari sono stati chiamati nella zona della stazione ferroviaria per un brutto trauma cranico subito da un uomo tra i 40 e i 50 anni. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Catinara, ma qui le sue condizioni si sono aggravate tanto da richiedere un urgento intervento chirurgico. L'uomo si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva, anche in questo caso per far luce sull'accaduto. La Polizia di Stato acquisirà le immagini del circuito di videosorveglianza. Ancora cronaca con un arresto cardiocircolatorio in uno studio medico a Staranzano. Attorno alle ore 15 di oggi sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza. Nel frattempo è stato utilizzato un defibrillatore che si trovava in prossimità dello studio con l'infermiere della Sores che è rimasto in contatto telefonico con una persona presente sul posto. Si è riusciti a soccorrere l'uomo che poi è stato trasferito continuando con la rianimazione. Il suo cuore è ripreso a battere e poi per accertamenti è stato condotto in ospedale. Sempre i sanitari della Sores sono intervenuti in serata per un incidente strale accaduto a Udine nella zona industriale in via Lumignacoli, intersezione con la statale 676. Le cause sono in corso di accertamento. Si sono scontrate delle vetture con i conducenti che sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale al Santa Maria della Misericordia. Un forte trauma cranico per uno in particolare, il codice giallo. Altro incidente a Resiuta lungo la statale 13 Pontebano, una fuoriuscita autonoma con un uomo di 40 anni che ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuoristrada. Anche in questo caso sul posto le ambulanze e l'uomo è stato trasferito con ferite non gravi in ospedale a Tolmezzo. Operazioni antidroga da parte dei carabinieri di Polcenigo. Due persone, entrambe di 36 anni, sono state arrestate per detenzione e cessione lecita di sostanze stupefacenti. Gli investitori hanno ricostruito un consistente numero di cessioni di marijuana e cocaina, MDMA a diversi consumatori residenti nella zona. Nel corso delle perquisizioni sequestrate anche un chilo di marijuana, 35 grammi di cocaina, 20 grammi di ecstasy, nonché 31 mila euro e 400 in contanti, svariato materiale per la preparazione dello stupefacente. Uno dei due 36 anni è stato trasferito in carcere a Pordenone, l'altro è ai domiciliari. Diversi gli interventi anche per quanto riguarda la viabilità e il controllo delle strade nelle notate di sabato e venerdì con il personale della Polizia Stradale che è intervenuta a Pordenone e anche a Gorizia, ritirando diverse patenti, decurtando decine di punti a vari autisti e conducenti delle vetture in transito. C'è poi l'inchiesta della Guardia di Finanza di Trieste su un giro di fatture false relative a viaggi inesistenti e a consegne a domicilio mai avvenute che faceva capo da alcune società rumene e che aveva diramazioni in numerose città italiane e anche in Francia. Vediamo. I finanziari del Comando Provinciale di Trieste hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di circa 2 milioni di euro emesso dalla Procura del Tribunale Giuliano, finalizzato alla confisca diretta di risorse pari all'importo delle imposte e vase da 7 società operanti nel settore della logistica e delle consegne di plichi a domicilio. Contestualmente all'esecuzione del sequestro, le fiamme gialle triestine hanno proceduto anche alla perquisizione di tutte le società destinatarie della misura, situate oltre che nel capoluogo Giuliano anche nelle città di Milano, Roma, Genova e Parma. In tal modo è stato possibile consolidare ulteriormente il quadro indiziario già raccolto circa il fraudolendo modus operandi utilizzato dai loro rispettivi amministratori di fatto e di diritto, tutti indagati per i reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini avevano preso le mosse circa un anno fa dall'analisi delle informazioni tratte da una serie di anomalie societarie e commerciali e finanziarie di alcune imprese del settore della logistica operanti a Trieste. Analisi che hanno progressivamente consentito agli investigatori di riscontrare come le sette società colpite dal provvedimento cautelare avessero annotato in contabilità fatture per oltre 7 milioni di euro emesse solo nel corso del 2021 da 13 altri soggetti giuridici formalmente costituiti in Romania e muniti di domicilio fiscale partita IVA accesi in diverse province italiane, tra le quali proprio a Trieste. Chiudiamo con la giudiziaria. È stato fissato per il prossimo 5 giugno l'udienza in Camera di Consiglio di Tribunale a Trieste rispetto al caso di Liliana Resinovic durante la quale saranno discusse le richieste di archiviazione avanzate dalla Procura e le opposizioni a tale richiesta presentate dalle parti offese. Ricordiamo la 63enne scomparsa da casa il 14 dicembre del 2021 e poi il cadavere ritrovato a San Giovanni il 5 gennaio del 2022. Presentando la richiesta di archiviazione la Procura aveva precisato che c'era una sola ricostruzione, ovvero l'intenzionale allontanamento della donna dalla sua abitazione e l'intenzionale decisione di por fine alla propria vita. A depositare invece l'atto di opposizione sono stati sia il marito della donna, Sebastiano Visitin, sia il fratello Sergio con la nipote Veronica. Durante l'udienza del 5 giugno verranno sentite le parti. Successivamente il GIP deciderà dunque se archiviare definitivamente il caso o chiedere ulteriori indagini. E rimaniamo nel capologo regionale che oggi ha ospitato l'Assemblea Generale della Confindustria Alto Adriatico che unisce, lo ricordiamo, la Venezia Giulia e Pordenone con il Presidente Michelangelo Agrusti che ha accolto il suo Presidente nazionale Bonomi e il Ministro Giorgetti per fare il punto della situazione anche in chiave positiva dedicata al mondo dei giovani. In apertura abbiamo ascoltato i gravi fatti di cronaca ma naturalmente c'è tutto un mondo di ragazzi che credono nel proprio futuro, credono in un'occupazione stabile e a loro si è rivolto proprio Bonomi. Oggi dovevamo dire tutto questo, semplicemente, abbiamo sbagliato in questo conflitto. Adesso dovete iniziare a costruire un nuovo Paese un Paese migliore di quello che abbiamo saputo fare noi. È il vostro momento della responsabilità. Con questo messaggio ai 700 studenti presenti in sala esteso indirettamente a tutti i giovani il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha concluso al Convention Center del Porto Vecchio l'Assemblea Generale di Confindustria Alto Adriatico alla presenza tra le tante autorità dei Ministri dell'Economia e Finanze Giorgetti e ai rapporti con il Parlamento Ciriani. Entrambi sono intervenuti sui possibili emendamenti ai quali sta lavorando il Governo in tema di superbonus in edilizia a cominciare da un possibile prolungamento delle detrazioni alla soluzione dei crediti incagliati. Il superbonus, insieme agli altri bonus edilizi è costato alla finanza pubblica ad oggi 117 miliardi. Ovvero il doppio di quanto gli Stati Uniti hanno investito per gli incentivi del Cipsac. È importante sostenere l'edilizia e continuare a farlo ma è il quadro di una finanza pubblica sostenibile. La logica del superbonus non poteva durare all'infinito ha creato un sacco di problemi che tutti noi conosciamo. Questo decreto e i correttivi che approveremo la settimana prossima sono un modo per uscire da questa condizione e avviarci a politiche di investimento anche sulla casa un po' più razionale. E il Presidente di Confindustria Alto Adriatico col suo discorso incentrato sull'importanza della formazione è tornato a rivolgersi ai più giovani. L'ho chiamato patto tra generazioni. È un patto indispensabile. Noi di solito in questo tempo rischiamo soprattutto la politica di avvelenare le nuove generazioni riproponendo delle divisioni drammatiche. Io credo che noi dobbiamo dare a questi ragazzi l'idea di un futuro migliore da costruire insieme senza contrapposizioni che non siano quelle normali che ci devono essere nella dialettica democratica. E a proposito di industria, dell'industria della carta e dei quotidiani in particolare c'è un aggiornamento rispetto al caso del Messaggero Veneto che assieme ai quotidiani il Piccolo, il Corriere delle Alpi, il Mattino di Padova la nuova di Venezia e Mestre, la tribuna di Treviso e Nord-Est Economia sta attendendo di chiarire il proprio futuro. Ci sarebbe la banca Finint di Enrico Marchi presidente tra l'altro della SAV e l'aeroporto di Venezia con una offerta per acquisire i quotidiani locali del Nord-Est, del gruppo Gedi. Ci sarà ora una negoziazione in esclusiva e c'è la possibilità di chiudere l'accordo entro il mese di giugno. L'accordata si legge in una nota ha presentato un'offerta per i quotidiani e nelle vesti di promotore e sottoscrittore diretto per conto di una nuqua appositamente costituita alla quale partecipano tra gli altri anche Alessandro Banzato della Ceieri Veneto Enrico Carraro del gruppo Carraro Federico De Stefani di SIT Group le famiglie Nalini e Zanatta oltre a Videomedia. Altra industria della Friuli Venezia Giulia è il gruppo Danielli che secondo quanto si è letto oggi in un'esclusiva della Corriere della Sera è tornato sotto attacco da parte dell'Ucraina con l'articolo, la firma di Federico Fubini che torna a richiamare come l'azienda friulana continua ad avere relazioni con il mondo russo nonostante le sanzioni. Fabio Londero, general counsel di Daniele ha replicato il nostro gruppo ha sospeso tutti i contratti con soggetti sanzionati quali per esempio la Severstal ci sono ben note le conseguenze legali la reputazione legata alla nostra attività sul mercato russo non possiamo che stigmatizzare una serie di affermazioni sulla nostra attività in Russia che appaiono quantomeno imprecise. Continuiamo con il nostro notiziario parlando di mondo del lavoro e delle quote per i migranti necessari proprio a dare risposta a quelle aziende che non trovano molte figure professionali ne ha parlato oggi il ministro del lavoro Calderone che è stata ospite della Camera di Commercio di Udine. Immigrazione qualificata con la formazione dei lavoratori nei paesi d'origine in base alle necessità delle imprese la ministra del lavoro Marina Elvira Calderone ha illustrato la linea che il governo intende seguire nel prossimo triennio nella gestione dei flussi di lavoratori extracomunitari a margine di un incontro con le categorie economiche in Camera di Commercio a Udine c'è forte richiesta di mano d'opera specializzata detto cui va data risposta per noi è importante anche valorizzare tutto quello che entra attraverso dei canali codificati ma soprattutto che parlano di collaborazione con gli stati e di inizio di un percorso di selezione e di formazione in loco nei paesi di origine laddove noi andiamo a formare con dei progetti ovviamente condivisi con i governi i lavoratori per poi farli entrare in Italia e completare la formazione e indirizzarli in azienda tanti i temi toccati da Calderone durante l'incontro promosso da Fratelli d'Italia no al salario minimo per legge ha detto la ministra sì a una promozione della contrattazione collettiva di secondo livello e del welfare aziendale e poi ci sono troppe norme poco chiare da semplificare un lavoro che faremo nei prossimi mesi sui contratti di inserimento lavorativo nello specifico sull'apprendistato perché il contratto è il contratto per eccellenza per l'ingresso nel mondo del lavoro ma a volte non viene utilizzato perché è di difficile applicazione perché magari richiede una predisposizione di un programma di un progetto che effettivamente diventa complicato a proposito di lavoratori sono 85 quelli che sono ricercati dal gruppo TPL Friuli Venezia Giulia la società che raggruppa le aziende di trasporto locale oggi c'è stata la presentazione del Recruiting Day che si terrà il prossimo 27 aprile mettendo a disposizione dunque questi posti di lavoro mondo del lavoro sul fronte ai trasporti che però sconta le difficoltà di tanti autisti che oggi sono tornati a scioperare con la manifestazione che si è tenuta all'esterno non sono queste le immagini il servizio che stiamo per lanciare quello legato appunto allo sciopero delle aziende di trasporto che si è tenuto quest'oggi a Udine in particolare con un'adesione dell'85% i sindacati richiamano ancora una volta l'attenzione dell'azienda grandissima adesione quest'oggi allo sciopero degli autisti di Arriva con una presenza massiccia proveniente da tutto il territorio provinciale sì certo siamo soddisfatti siamo molto soddisfatti perché gli autisti hanno aderito in maniera massiccia a questo sciopero inoltre lo sciopero che è stato sostenuto dal sitting ha visto oltre le 100 presenze quindi questo ci dà ancora più stimolo ancora più forza per portare avanti le istanze dei lavoratori ai tavoli di discussione una percentuale di adesione che si avvicina all'85% sì questi sono i dati che ci sono stati forniti fino a questo momento dall'azienda prossimi passi appunto si riaprirà un tavolo tornerete ad incontrarvi sì auspichiamo che l'azienda a seguito di questo sciopero apra i tavoli a livello di contrattazione di secondo livello e si faccia garante di aprire un dialogo che sia costruttivo per trovare soluzioni adeguate al territorio e alle sofferenze degli autisti ma ci aspettiamo che già con il tavolo di domani l'azienda prenda in considerazione le nostre istanze le problematiche che ci sono all'interno dell'azienda che sono da anni che non vengono risolte e quindi ci aspettiamo qualcosa di positivo dopo questa azione di protesta se non sarà così ne faremo ancora ricordiamo anche la carenza di personale lo stress degli autisti gli straordinari tante le richieste tante le richieste sì c'è tanta carne al fuoco carenza di personale tanta l'azienda sta assumendo quel contagocce ma il problema è anche un altro ci sono diversi autisti storici che comunque hanno un'anzianità anche di 20 anni che se ne stanno andando si stanno licenziando per abbracciare un altro tipo di lavoro perché qua è diventato insostenibile tra virgolette però è diventato pesante a pochi passi dalla sede di arriva Udine sempre nella zona industriale udinese è stato presentato stamattina il nuovo centro direzionale che andrà a beneficio dei lavoratori della zona questo è un nuovo investimento che il consiglio di amministrazione l'assemblea dei soci ha approvato oltre un anno fa e che vedrà la realizzazione di un nuovo centro direzionale all'interno della zona industriale udinese questo è un progetto che vuole tendenzialmente essere vicino alle imprese in quanto intendiamo appunto realizzare quel welfare aziendale che metta in contatto le aziende con i servizi più vari prima o fra tutto magari un centro di medicina del lavoro piuttosto che una mensa che dovrebbe quindi essere allocata all'interno di questo centro direzionale oltre ovviamente anche degli uffici a uso degli insediati tempistiche le tempistiche che noi ci siamo dati sono tempistiche rapide nel senso che ormai noi abbiamo già approvato il progetto definitivo e a breve andremo avanti con tutte le altre fasi tra cui ovviamente la gara d'appalto che dovrà essere a nostro avviso gestita in tempi molto ristretti e quindi nei prossimi 3-4 mesi di quest'anno ricordiamo anche l'importanza e il valore di questa zona industriale tra imprese insediate e numero di dipendenti certo questa è una zona industriale molto attiva su una superficie questa di oltre 5 milioni di metri quadri e vi lavorano circa 5 mila persone con un importante indotto anche dal punto di vista dei lavoratori che la frequentano l'obiettivo nostro è anche quello di portare avanti oltre con questo centro direzionale anche la realizzazione di un asilo nido che però sarà allocato presso il comune di Pavia sempre in area industriale chiudiamo la pagina economica parlando di agricoltura allevamento in particolare con i dati della filiera sui Nicola della Friuli Venezia Giulia che ha un anello debole infatti solo il 25% dei maiali allevati viene macellato nella nostra regione ma in Italia vi sono anche esempi virtuosi ai quali il consorzio Fondazione Agri-Food invita a rivolgersi per recuperare il fattore di debolezza che non è di poco conto se si considera appunto anche la concorrenza con le altre regioni italiane cambiamo argomento e torniamo sul futuro del carcere di Udine oggi in visita al sottosegretario Ostellari con un sopralluogo che è servito anche a chiarire poi la questione legata al sovraffollamento abbiamo fatto questa visita in questo carcere di Udine è un buon carcere ha grandi potenzialità ovviamente come in tante strutture ha bisogno di interventi di miglioramento ma qui a differenza di altri istituti che ho potuto visitare i lavori sono già diciamo in stadio avanzato c'è una buona sezione per i cosiddetti semi liberi che sarà completata tra circa un annetto e una ex sezione dedicata alle detenute quindi donne che oggi sarà oggetto di una nuova ristrutturazione e dedicata soprattutto al diciamo una parte probabilmente al lavoro e una parte alla formazione che quindi potrà essere implementata in questo istituto e sotto questo profilo quindi sono particolarmente sono felice perché qui si può fare quello che stiamo lanciando anche a livello nazionale e cioè l'importanza del lavoro all'interno del carcere soprattutto all'interno del carcere che i dati ci dimostrano essere un antidoto importantissimo per il singolo detenuto che ovviamente impara qualche cosa e non sta lì a guardare il soffitto e poi per la comunità il 98% di chi all'interno del carcere lavora e impara qualche cosa poi quando esce esce anche dal circuito criminale noi abbiamo sicuramente una carenza di numeri per quanto riguarda il personale su questo ci stiamo attivando e fin da subito questo governo ha dato ampio risalto a questo dato ci saranno quindi nuove assunzioni nuovi concorsi che porteranno quindi anche qui un numero diverso insomma quindi implementandolo per quanto riguarda la polizia penitenziaria ma anche per quanto riguarda ovviamente gli educatori i psicologi per quanto riguarda invece il sovraffollamento anche qui diciamo i numeri sono importanti ma non tali da determinare allarmismo ed ora ci trasferiamo a Ruda o meglio ci ritorniamo ricorderete la puntata delle scorse settimane sulla località della bassa frulana durante tag in comune con Giorgia Bortolossi e il Poma che ci ha portato a scoprire questi scorci di territorio in particolare la mideria Chiozza ebbene oggi è stata sottoscritta un'importante convenzione con la sovrintendenza che porterà al recupero definitivo del vecchio stabilimento con un fondo da oltre 4 milioni e mezzo di euro oggi è sicuramente un passo importantissimo per lo sviluppo di questo eccezionale complesso di archeologia industriale che è la mideria di Ruda un complesso che il nostro ministero ha ritenuto di dover finanziare con un contributo estremamente importante che si aggiunge ad altre risorse delle altre disponibili e siamo certi sarà un polo culturale di un volano di sviluppo per tutta questa parte del territorio regionale è un progetto che stiamo portando avanti da alcuni anni di portata credo clamorosa per un piccolo comune però che guarda ad una dimensione che non è solo comunale ma territoriale di interesse direi quasi oltre che regionale per interesse quasi nazionale per il tipo di struttura per il tipo di possibilità che questa struttura può offrire in seno a un recupero culturale che è quello di un'ex mideria con le macchine originali dentro e per gli spazi che possono essere in futuro anche impiegati per le variate ipotesi di terziario avanzato di formazione di studio noi ci fermiamo ora per un break poi seconda parte del nostro notiziario con l'approfondimento parleremo della mostra Humans che è stata aperta nella fine settimana in città Udim ma di tanti altri argomenti rimanete con noi di nuovo assieme ben ritrovati in diretta con l'informazione di TV12 dicevamo approfondimento stasera dedicato a una mostra particolare che è stata inaugurata lo scorso fine settimana la casa della contadinanza di Udine che vede i giovani protagonisti con il titolo Humans l'associazione Artes qui rappresentata dalla presidente Diana Rucli alla quale diamo la buonasera che cosa vuole portare in mostra che cosa avete esposto cosa hanno prodotto questi ragazzi buonasera quello che portiamo in mostra sono i lavori creativi che hanno fatto un gruppo di ragazzi di 5 scuole di Udine 5 scuole superiori sul tema delle relazioni interpersonali sulla socialità oggi sappiamo che c'è forte bisogno di socializzazione oggi non sempre abbiamo gli strumenti per stare in relazione con gli altri e quindi Artes fa dei corsi di formazione nelle scuole superiori e alla fine di questi percorsi i ragazzi si esprimono anche in modalità creativa e hanno prodotto questi lavori che ci parevano meritevoli di essere portati in una mostra e quindi per questo nasce Humans come mostra non solo come progetto formativo 50 le opere esposte dicevamo fino al 12 aprile alla Casa della Contadinanza poi ci sarà un ulteriore della confraternita e poi ci sarà dunque uno spostamento in un'altra sede sì perché sono partner di questo progetto ricordo che è un progetto finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia nel bando manifestazioni espositive partner sono il comune di Udine e l'università di Udine per cui la mostra fino al 12 di aprile è a Casa della Confraternita e dal 14 sarà invece a Palazzo di Toppo Wasserman fino al 28 aprile protagonisti i ragazzi soprattutto in una chiave pre e post Covid che cosa è emerso anche dai loro racconti come si sono messi in gioco allora in realtà già prima del Covid evidenziavamo delle difficoltà di relazione riguardo anche gli adulti vediamo che la comunicazione non è facile neanche per gli adulti ma in particolare per i ragazzi il Covid ovviamente ha acuito questa difficoltà perché il distanziamento sociale che abbiamo tutti subito è stato più intenso ha avuto effetti più forti per i ragazzi e quindi i ragazzi quando sono rientrati a scuola hanno espresso proprio tutta la difficoltà quella sorta di blocco che non ci permette di comunicare pienamente quello che vorremmo comunicare quindi la mostra presenta ci sono molti lavori vedo che qualcuno sta passando anche in cui ci sono sono rappresentate le barriere e quindi i ragazzi hanno espresso delle possibilità delle modalità e anche dei desideri semplicemente di abbattere queste barriere la mostra dunque da andare a vedere sicuramente anche in chiave formativa grazie dunque alla presidente di Artes e alla prossima grazie noi proseguiamo con il nostro notiziario andando a raccontarvi di un'altra presentazione della fondazione Mauro Ferrati e famiglia che è stata presentata stasera in sala Iace a Udine c'era per noi Monica Nardini una nuova fondazione che la vede presidente vede coinvolta l'intera sua famiglia costituita stamattina a Udine quali sono le finalità e perché proprio qui in Friuli finalità filantropiche a vasto spettro e diciamo che è un po' la somma di tanti anni in cui sono stato impegnato dagli Stati Uniti su cause sociali qui in Friuli Friuli è la mia terra l'adozione il valore fondamentale della finalità è essere solidari gli uni con gli altri e dopo aver fatto per 40 anni piccole cose come capitavano in tante direzioni finalmente ho avuto l'occasione insieme all'avvocato Cabrini e insieme a Giampaolo Graberi di mettere insieme la fondazione e di farla partire da stamattina la notizia è ancora freschissima e ci impegneremo siamo alla ricerca di idee la gente che ha idee progetti proposte ce li può fare avere su che fronte non so dalla ricerca medica o non solo non solo vogliamo fare assistenza a chi è in difficoltà tante volte per tanti anni ho seguito tanti pazienti e le loro famiglie in tante cose naturalmente situazioni tipicamente molto gravi ma anche sul sociale per i disabili per gli anziani per offrire opportunità educative di formazione a chi non ne ha quindi diciamo siamo veramente aperti a progettualità diverse naturalmente partendo dalle cose che magari conosco meglio che sono i temi che hanno a che fare con la sanità povertà disuguaglianze identità di genere qualsiasi sia la causa l'importante che si possa fare una differenza noi saremo presenti delle spettatori come possono rivolgersi alla fondazione come devono fare possono contattarmi io sarò lietissimo di rispondere a tutti personalmente il mio contatto è molto facile da ricordare drmaurof chiocciolagmail.com oppure c'è quello della fondazione mauro chiocciola fondazione mferrari dovrebbe essere facile da ricordare forse mferrari famiglia uno di quelli comunque il primo funziona e poi manderemo naturalmente degli annunci in modo che chiunque lo desideri fare può contattarci e cerchiamo di tirarci sulle maniche insieme e di fare quello che possiamo per dare una mano che ha bisogno di noi a proposito di ambito sanitario per la prima volta l'autoemoteca regionale è arrivata al polo universitario di Pordenone l'edì 29 marzo l'autoemoteca regionale per le donazioni di sangue e plasma farà per la prima volta il suo ingresso al polo universitario pordenonese a portarla sarà l'associazione Friulana Donatori di Sangue Pordenone con l'aiuto della protezione civile regionale che metterà a disposizione il gruppo elettrogeno l'associazione ha già raccolto tra gli studenti 24 adesioni nella donazione delle quali 16 sono nuovi donatori oltre a 4 riserve tra questi anche il direttore del consorzio universitario Andrea Zanni che ha deciso di dare il buon esempio a studenti e colleghi donando il sangue per la prima volta il polo universitario è stato creato per essere d'aiuto al territorio e far crescere le sue aziende spiega Zanni il dono rientra appena titolo in questa mission oltre che luogo di formazione il campus di Pordenone è anche un contenitore culturale significativo non estraneo le tematiche sociali per questi motivi non ha avuto il minimo dubbio se accogliere o meno l'iniziativa che mi è stata proposta oltre a salvare le vite la donazione di sangue è un'attività importante da promuovere tra i giovani affinché compiano gesti concreti di solidarietà e vicinanza alle persone e si avvicinano alla dimensione del volontariato con questo spirito sono già state gettate le basi per una collaborazione tra l'associazione friulana donatori di sangue Pordenone e il consorzio universitario annuncia il direttore l'auto-emoteca diventerà un appuntamento fisso in università più volte l'anno e mi piace anche pensare alla creazione di spazi all'interno delle lezioni in cui l'associazione possa promuovere la donazione di sangue in aula tra gli studenti sentiamo ora le parole di Mauro Verardo presidente dell'associazione friulana donatori di sangue Pordenone ringrazio il direttore l'ingegner Andrea Zanni per l'accoglienza che ci ha riservato e ancora di più per la disponibilità a diventare donatori di sangue dando l'esempio ai propri collaboratori e studenti del consorzio universitario di Pordenone ringrazio anche la protezione civile che ha messo a disposizione il gruppo elettrogeno necessario a fornire l'alimentazione elettrica all'auto-emoteca le adesioni alla donazione sono state parecchie per essere la prima uscita e confidiamo di organizzare altre uscite periodiche per stimolare e incentivare i giovani a questo gesto importante di solidarietà e generosità verso chi ha bisogno siamo in chiusura del nostro notiziario vi ricordiamo gli appuntamenti per la serata tra poco dalle 20 ritornano le agendine elettorali di Alberto Terasso con il confronto tra i vari candidati in campo alle prossime regionali e comunali alle 21 invece è tempo di Udinese tonight con Giorgia Bortolossi i suoi ospiti i nostri opinionisti ospite d'eccezione tra l'altro stasera in particolare ci sarà Andrea Carnevale capo degli scout bianconeri puntata da non perdere noi ci ritroveremo invece domani alle 7.35 con la rassegna stampa grazie per averci seguito e ora le previsioni del tempo buona serata Un saluto e ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e gli amici di TV12 contesto anticiclonico nella giornata di martedì su tutto il Friuli Venezia Giulia a garanzia di tempo stabile in un contesto asciutto con temperature in calo andiamo a vedere insieme la situazione sulla provincia di Pordenone e Udine sole prevalente per l'intera giornata con cielo sereno al più velature in transito ma senza effetti clima che risulterà essere freddo di notte al primo mattino massime che non andranno oltre i 15 gradi situazione medesima anche per quanto riguarda le province di Gorizia e Trieste quando avremo ampi spazi di cielo sereno con temperature massime tra i 12 e i 14 gradi dettagli ulteriori vi aspettano come sempre sull'app di Trebi Meteo grazie a tutti Grazie a tutti.